Allora, nella dispensa noi abbiamo parlato del termine bigeneration, che significa battuto, vinto. Poi potete leggervi questa parte sulla bigeneration, che è una spiegazione di Allen Ginsberg su come è nato questo termine. Poi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo parlato un po' anche dei costumi della bigeneration, cioè di come loro vivevano, del fatto che alla fine degli anni cinquanta, ecco questa è la parte importante, padri e figli, cioè verso la metà degli anni cinquanta, metà fine anni cinquanta, questi ragazzi hanno cominciato a scrivere le loro poesie e i loro testi e sono partiti dalla California, da quella libreria che si trovava a San Francisco e che dava la possibilità a tutti di pubblicare le loro opere. E quindi la gente si recava anche in questa libreria per ascoltarli. E quindi c'erano Allen Ginsberg, Kirwak, così che leggevano parti dei loro romanzi, delle loro poesie. E questa era una novità perché all'epoca le grandi case editrici selezionavano gli autori e quindi era difficile essere pubblicati. Invece in questo modo questa libreria di San Francisco dava voce a tutti quei giovani che pensavano di avere qualche cosa da dire. E poi essendo a contatto diretto con il pubblico, il pubblico funzionava un po' da critico letterario, cioè diceva se l'opera gli piaceva era valida. E quindi a quel punto poi veniva pubblicata, quindi c'era un rapporto diretto. La Big Generation, come abbiamo visto, fa largo uso di droghe, sostanze stupefacenti. Quindi poi sono autori che viaggiano molto. Kirwak, per esempio, è un autore che viaggia sui cari merci dei treni. Quindi i cari merci rallentano in prossimità delle stazioni e quindi rallentano così tanto che si può saltare sopra il carro merci e poi essere trasportato da una città, da un paese all'altro. Gli Stati Uniti sono enormi, sono due volte e mezzo l'Europa come grandezza, quindi prendetevi conto anche delle distanze. che queste persone coprivano. E molto spesso facevano questo perché il viaggio gli dava possibilità di conoscere, conoscere posti, conoscere persone e conoscere l'America anche. Era una sorta di sfida. Allora, quello che è importante capire era perché c'era questa sfida, come mai, qual era il motivo di intraprendere una vita così diversa rispetto a quella tradizionale. Allora, i motivi fondamentalmente possono essere i due tipi. Il primo è che questi ragazzi rifiutavano proprio la morale, la morale tipica americana che era fondata sulla happy family, il sogno americano, quindi la morale della piccola e media borghesia con la sua casettina, il suo garage, le sue due o tre automobili, poi i risparmi per andare a mandare i figli all'università, una vita, diciamo, tutta chiusa all'interno del paese dove si è nati, si è vissuti e lì si continuerà poi a vivere. Ecco, loro rifiutavano questa dimensione molto piccolo borghese, perbenista e anche molto riduttiva perché poi la vita era ridotta così all'interno di questa comunità e quindi hanno pensato di mettere in pratica proprio uno stile di vita diverso. Ed ecco che nascono delle nuove forme per cui si vive insieme, si affittano degli appartamenti, si dividono le spese, si ospiti, ospiti di persone per cui si va a vivere, non so, sei mesi a Chicago e c'è qualcuno che ti ospita in quella città e viceversa quelli ragazzi che hanno ospitato altri compagni a Chicago possono poi andare a Dallas ed essere ospitati a loro volta a Dallas. Quindi è un movimento, nel vero senso della parola, di persone che si spostano. Il secondo motivo invece è un motivo psicologico ed è un po' difficile da comprendere ma vi chiedo di prestare attenzione a questo ed è descritto qui, in questa parte, padri e figli. Ed è una riflessione appunto che ho fatto io e che vi riassumo in questi termini. Allora voi immaginate che siamo alla fine della seconda guerra mondiale, quindi che cosa succede alla fine della seconda guerra mondiale? Che i padri, i fratelli, quelli che hanno combattuto, rientrano. E quindi ci sono persone che hanno contribuito alla vittoria dell'America nel dopoguerra e che hanno combattuto su tutti i fronti, dalla Normandia all'Africa, passando per l'Italia al Pacifico. Molti sono morti. Quindi tante famiglie americane hanno perso, hanno perso negli anni 40, hanno perso i padri, i fratelli. E altri invece non sono andati perché troppo giovani. Allora voi immaginate di avere in casa delle persone che o sono morte in guerra o sono state ferite, mutilate o comunque hanno combattuto. Cioè avete in casa degli eroi. E' chiaro che per un figlio maschio che dovrebbe a un certo punto della sua vita distaccarsi dal padre e anche dovrebbe, come dire, in un certo senso superarlo, diventa un problema questo, diventa un grosso problema perché se tu hai in casa un eroe, capite l'importanza, che sia vivo, che sia morto, che sia mutilato, hai questa figura importante di un uomo che ha vinto una guerra, ha combattuto su diversi fronti, cioè ha fatto la cosa più straordinaria che si possa fare. Dunque come fai tu, figlio maschio, a dimostrare il tuo d'eroismo, il tuo valore? Perché non è confrontabile. Cioè se tu hai un padre normale, un padre che non so, elettricista, ingegnere, che svolge un lavoro, tu puoi cercare la tua strada, puoi cercare il tuo lavoro, ti puoi confrontare con tuo padre, puoi anche superarlo sotto un certo aspetto. In ogni caso la relazione è una relazione tra pari. Ma così, così, invece non è una relazione tra pari perché tu hai un eroe in casa e non lo puoi superare, non puoi diventare eroe a tua volta perché non hai occasioni nella vita per combattere di nuovo una guerra o per dimostrare il tuo eroismo. Quindi abbiamo tutta una generazione di giovani maschi negli Stati Uniti, finita la guerra, che non hanno combattuto, che magari sono piccolini, e poi crescono appunto negli anni 50 e crescono sovrastati da questa figura eroica del padre, del fratello, dello zio che domina la vita della famiglia. Dunque loro hanno bisogno di dimostrare il loro valore e come possono fare? Ecco che per esempio c'è un film, un film molto famoso, il cui protagonista era James Dean, che all'epoca era un attore molto, come dire, amato dal pubblico femminile, è bello, un bel ragazzo anche, che poi è morto, purtroppo è morto in un incidente d'auto. Questo attore aveva, era il protagonista di un film che si intitolava Gioventù Bruciata e all'interno di questo film questi ragazzi che cosa facevano? Facevano un gioco micidiale, un gioco pericolosissimo, per cui prendevano le loro auto a coppie, quindi si mettevano allineati, un po' diciamo a una certa distanza da un burrone, uno strapiombo, e vinceva chi, partendo da una certa distanza, 300-400 metri, 500 metri, accelerando, frenava per ultimo, prima del burrone. Non so se avete capito che gioco si tratta, quindi proprio correre con l'automobile e fermarsi giusto un attimo prima del burrone. Vince l'ultimo che frena, chi frena per ultimo, chi si spinge quasi fino alla fine. e diversi ovviamente perdevano la vita, era un gioco pericoloso. Perché questo gioco? Ma perché questo gioco significava mettersi alla prova. Cioè io ho un padre, un fratello, ho uno zio, un parente in casa che è un eroe di guerra, che ha combattuto nella seconda guerra mondiale, che è rientrato, che è morto, che è ferito, e che quindi si è messo alla prova, ha lanciato una sfida pazzesca e l'ha vinta, e beh, io creo la mia sfida e la creo nel mio piccolo, nel mio piccolo con i miei amici e con le condizioni in cui mi trovo. E guardate che la droga era un po' la stessa cosa, è una prova, è un mettersi, è un rischiare e allo stesso tempo anche il viaggio è un rischio, è partire per un'inconita. Quindi questi ragazzi hanno messo anche a repentaglio la loro vita proprio per un motivo di ordine psicologico che riguarda il fatto che in qualche modo dovevano anche dimostrare il loro valore. E così è nata questa generazione di scrittori che fa capo al termine, appunto, bit generation. Per quanto riguarda, e quindi questa bit generation è composta appunto da diversi autori. Allen Gisber è uno dei più importanti, l'abbiamo visto, vi ho letto in classe l'incipite dell'urlo che avete qui nella dispensa, se ne abbiamo parlato in discusso, quindi non ci ritorno su. Siete stati anche bravi a interpretarlo, quindi a capire di che cosa si trattava, quindi della descrizione della vita di questi giovani. E invece oggi parliamo un momento di Jack Kerouac. Jack Kerouac è stato uno dei fondatori, insieme a Allen Gisber, che è proprio della bit generation, anche del termine bit generation. Vi ricordate che vi parlavo di questa libreria che si trovava a San Francisco? Bene, lui era lì e quindi era un frequentatore, animatore di questa libreria. Ha scritto un libro molto importante, di cui noi non ci occupiamo, che si intitola On the Road, sulla strada. È un libro del 1957, è un romanzo. Questo romanzo di Kerouac, io vi dico subito che personalmente non l'ho trovato, un romanzo di eccezionale valore, ma questi sono gusti ovviamente personali, però in realtà è stato un romanzo che ha rivoluzionato la letteratura mondiale, perché, ed è il motivo per cui io non lo trovo di tanto interesse, perché è un romanzo ricorsivo, cioè è un romanzo all'interno del quale si parla sempre della stessa cosa, vale a dire ci sono dei ragazzi, tra cui Kerouac, che partono in autostop, oppure viaggiano su carri merci, carri bestiame, così arrivano in una città, incontrano altri ragazzi, sono ospiti da loro, fumano, e per fumare intendo ovviamente fumano hashish, marijuana e così via, qualche volta utilizzano altre sostanze, come lsd, altre sostanze stupefacenti, si raccontano delle cose e poi ripartono, ripartono, arrivano in un'altra città, e quindi la storia in un certo senso si ripete. All'interno di questi viaggi continui poi si verificano dei fatti, naturalmente per esempio degli episodi, degli incontri affettivi, ma anche sessuali, però tutto questo meccanismo è un meccanismo molto ripetitivo, quasi un po' paranoico, ossessivo quasi, come se fosse anche una conseguenza indiretta dell'uso di sostanze stupefacenti, di cui appunto loro facevano un grande uso. Allora, questo libro cambia tutto, cambia tutto perché non si può parlare di una vera e propria storia, si tratta di un viaggio composto da tanti viaggi, incontri, così, quindi è come se però questo libro ti dicesse, guarda che l'America è qualche cosa da conoscere, non puoi startene lì nella tua casettina con la tua automobilina, la tua mogliettina, il tuo figliolino, il tuo lavoretto a fare questa vita per 30 anni, per 40 anni, perché c'è un mondo da scoprire. Ecco questo valore del romanzo è molto importante perché ha aperto gli occhi a una generazione di giovani che ha cominciato a viaggiare, a scoprire l'America, di giovani poi anche di giornalisti, perché tutto si è mosso a partire da loro e quindi intellettuali, giornalisti, così sono andati poi alla scoperta, cineasti, anche tanti film sono nati, per esempio uno molto importante è stato Easy Rider con Dustin Hoffman e quindi tanti sono partiti sulla scorta di questo libro di Kirouac del 57, On the Road, sulla strada, sono partiti alla scoperta di che cosa? Del loro stesso paese. Però se voi vi ricordate quello di cui, quando abbiamo parlato di Steinbeck, vi ricordate Uomini Topi, questi due ragazzi che viaggiano alla ricerca di un lavoro, così vi ricordate che Steinbeck aveva scritto che non è l'uomo che fa il viaggio, ma è il viaggio che fa l'uomo, cioè il viaggio è un momento di crescita, è un momento attraverso il quale l'uomo conosce altre persone, ma vedete attraverso la conoscenza di altre persone, la conoscenza di luoghi, in realtà conosce e scopre se stesso. È proprio veramente un mettersi alla prova, esattamente come si sono messi alla prova quei padri, quei fratelli, quei parenti che hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'importanza della Big Generation e del ruolo di Kirouac è proprio questo. Adesso io focalizzo l'attenzione su un altro invece romanzo di Kirouac che si intitola I Sotterranei del 1957 e mentre del primo On the Road a voi basti un po' ricordare la sostanza che è composta appunto da questi viaggi continui, nei sotterranei c'è qualche cosa di interessante, diciamo dal nostro punto di vista, più interessante perché c'è un legame psicologico che riguarda il rapporto tra bianchi e neri. Di che cosa parla il libro? Il libro parla di una relazione tra Jack, che sarebbe Jack Kirouac, e Mardou. Vedete qui il nome di questa ragazza, Mardou. È un nome di origine francese, quindi ci troviamo... Voi sapete che negli Stati Uniti c'è una città che si chiama New Orleans che è una città di origine francese, fondamentalmente nera, quindi questi neri parlano anche francese. Noi, questa Mardou appunto è una nera che parla anche francese oltre all'inglese e sarebbe la ragazza di Jack. Che cosa succede in questo romanzo e soprattutto in questa parte che vi ho preso, che sarebbe l'inizio del capitolo 2. Eccola qua. Voi la potete leggere per conto vostro a casa questa parte. Io ve ne leggo dei tratti, dei brani. Nella sostanza, questo punto ci interessa perché si vede il conflitto, quindi attenzione, proprio il conflitto, il dramma, il contrasto tra Jack, che è bianco, allevato in una famiglia profondamente americana, legata ai valori tradizionali razzisti dell'America del Sud, molto cattolica, nel senso che è molto praticante, che impone anche i suoi valori ai propri figli, le sue regole morali. E queste regole sono introiettate da Jack. Quindi lui, pur essendo, tra virgolette, un ragazzo, un giovane ragazzo, che esprime la sua posizione anche rivoluzionaria nei confronti della società e della famiglia, quindi contesta i genitori, critica, eccetera, però in realtà lui subisce profondamente l'influenza della famiglia e in particolare l'influenza della madre. Subisce proprio questa grandissima influenza della madre che gli ha instillato questa morale razzista nei confronti di Enir. Ecco che allora Jack si trova in una condizione molto difficile, perché da un lato lui ama Mardù, ma dall'altro la respinge. Per esempio, qui, ecco, vedete questo brano che inizia qui, questo periodo, no? Lui, sono a letto, Mardù si alza, nuda per andare in bagno, c'è una persona sotto che suona alla porta, lui si preoccupa del fatto che Mardù appunto è nuda, può essere vista, eccetera. Allora gli vengono dei dubbi, dei dubbi su questa donna e lui dice, eh sì, dubbi, perché non sapeva cucinare e non lavavi i piatti subito dopo mangiato. Figuratevi, da principio proprio non riusciva a mandarlo giù, ma poi arrivai a capire che veramente non le piaceva cucinare. E dopo un altro po' capì anche che i piatti li aveva lavati tanto e per forza per la famiglia del suo tirannico zio e per giunta l'avevano sempre costretta a uscire nel vicolo a notte fonda con il secchio della spazzatura ogni notte perfino la volta che lei si era messa in testa che ci fosse un fantasma fuori che l'aspettava. Dubbi. Dubbi che ora non ho più. Lussi del tempo passato. Allora, prima di tutto non è vero che lui non ha più dei dubbi perché poi si vedrà continuando il libro che invece questi dubbi esistono ed esiste proprio un conflitto su Mardù. Però osserviamo proprio questo passaggio. Lui dice che aveva dei dubbi perché innanzitutto giudicava Mardù secondo il metro bianco razzista della sua famiglia. Vale a dire la donna deve stare in casa, la donna deve essere casalinga, deve essere bianca ovviamente, bianca, casalinga, deve stare in casa, deve cucinare, lavare i piatti e occuparsi delle faccende domestiche. Ora, lui invece si innamora di questa donna che rompe tutti questi schemi. Prima di tutto non è bianca, è nera e poi, come avete visto, non cucina, non lava i piatti. Per lui questo all'inizio è stato un problema. poi questo problema specifico l'ha risolto. Non ha risolto, diciamo così, il dubbio generale su Mardù. Ha risolto questo specifico dubbio. Perché? Perché ha capito che Mardù in realtà era a sua volta, proveniva da una famiglia molto tirannica. E qui abbiamo una prima riflessione da fare che non è vero che, diciamo, la famiglia bianca era una famiglia negativa e quella nera è positiva perché loro sono, come dire, sfruttati e sono oggetto di razzismo da parte dei bianchi. No, indipendentemente dal colore le famiglie sono famiglie quindi all'interno delle famiglie possono capitare diverse cose anche molto simili. Quindi anche la famiglia di Mardù era una famiglia che la tirannizzava molto, che la bloccava, le impediva di esprimere le sue passioni, i suoi sentimenti e la schiavizzava molto. Quindi lavare i piatti, uscire di notte da sola, cucinare, eccetera. Ecco perché Mardù ha rifiuta diciamo questo ruolo da casalinga. Non perché lo rifiuti da un punto di vista ideologico, ma lo rifiuta da un punto di vista pratico perché lei lo ha subito lo ha subito parecchio e quindi poi il romanzo vedete va avanti fino a che c'è un punto vediamo se lo rintraccio molto interessante che dice dove parla di dunque 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 c'è un punto allora c'è un punto adesso non lo trovo qua ma c'è un punto in cui Jack parla di sua madre e quando parla di sua madre lui dice in modo molto esplicito che ama entrambe le donne cioè ama sua madre e ama allo stesso tempo Mardù e non riesce a liberarsi di questo amore che è chiaramente un amore edipico nei confronti di sua madre quindi lui non ha affrontato il complesso di edipo edipo complesso di edipo allora lui l'ha attraversato come tutti ma dato che l'influenza di sua madre è molto forte perché è da parte di sua madre che diciamo così questo forte razzismo questo attaccamento al figlio deriva quindi lui è rimasto inconsciamente molto attaccato alla madre ma d'altra parte è anche un ragazzo giovane quindi vuole farsi la sua vita giustamente ecco che quindi nasce un conflitto un conflitto molto forte tra il suo desiderio di crescere di avere una vita indipendente e di amare chi gli pare ovviamente contro questo legame molto forte che invece ha con sua madre e lui dice questo eccolo qua il punto vediamo se si è un po' sopra eccolo qua allora lui dice dubbi dunque beh su Mardù perché è negra non dici neanche nera è negra dubbi su Mardù perché è negra li hanno non soltanto mia madre è naturale ma mia sorella con cui un giorno dovrò vivere il suo marito che è uno del sud e tutti gli altri per loro sarebbe una mortificazione del diavolo e non vogliono nulla a che fare con noi e questo precluderebbe completamente la possibilità di vivere nel sud come in quella cascina folteriana al lume della luna del vecchio nonno che per tanto tempo me l'ho sognata e lì me ne sto dottor Wintle a ribaltare il pannello eccetera eccetera allora è importante questo passaggio perché lui dice che questi dubbi quindi vedete in quale modo lui dice che è negra questa donna proprio e qui è come se parlasse la voce della sua famiglia non lui gli hanno non soltanto mia madre ma anche sua sorella con cui un giorno dovrò vivere come sarebbe lui un giorno dovrà vivere vivere con sua sorella e beh sì perché questa era la mentalità dell'America del sud un'America agricola dove poi le famiglie si riunivano e vivevano insieme o nella stessa casa o comunque vicino all'interno della stessa comunità quindi voi capite che non si sfugge da una da una comunità giudicante moralistica così forte nella quale tu un domani dovrai vivere e lui che cosa fa Jack si presenterà in questa comunità con Mardu con questa donna nera avrà il coraggio di farlo e da qui nascono i suoi dubbi perché delle due luna o lui sta con Mardu e quindi decide di svolgere di fare una vita indipendente e e quindi di vivere per conto suo con questa donna che ama e quindi avrà il coraggio di affermare il suo amore oppure soccombe soccombe nei confronti della famiglia e quindi dovrà lasciare Mardu perché certamente non potrà portarla a casa sua allora questo mi serve quindi questo è quello che volevo dirvi su questo romanzo che si intitola I Sotterranei del 1957 leggere queste citazioni che vi ho proposto quindi gli incipi del capitolo 2 sono circa tre paginette non è semplice è un po' complicato perché la scrittura di Jack e Kirua che è una scrittura senza troppa punteggiatura un po' confusa sotto certi aspetti che però piaceva molto all'epoca e soprattutto piaceva molto ai giovani perché vedevano in questo modo di scrivere un elemento di rottura non so come la vedrete voi me lo direte leggerete questa cosa e mi direte se voi avete rintracciato questi elementi di rottura oppure trovate difficile questa scrittura io personalmente la trovo difficile trovo molto interessante quello ciò di cui parla Kirua che però diciamo non è il mio genere preferito ecco a me piace leggere diciamo cose più scorrevoli però l'ho trovato certamente molto interessante e noi lo dobbiamo sapere perché dobbiamo anche capire come certe cose che sembrano magari di rottura in un determinato momento della storia in un altro non lo sono più chiaramente oggi queste tecniche di scrittura sono usate largamente sono anche come dire passate di moda però allora avevano proprio una carica dirompente rivoluzionaria ecco questo è importante capire allora che cosa abbiamo compreso fino adesso abbiamo compreso due cose cioè abbiamo capito che la bit generation è un un elemento di rottura che usa anche dei comportamenti mette in atto dei comportamenti degli stili di vita radicalmente diversi da quelli tradizionali ma allo stesso tempo esprime anche dei conflitti perché non è semplice staccarsi da una morale dominante non è affatto semplice questi ragazzi sono messi alla prova e lo vogliono fare vogliono anche sfidare accettare delle sfide mettersi alla prova così sia per conoscere conoscere se stessi i propri limiti e sia anche per rompere con questa diciamo cappa di eroi questa questa questo te questo come dire stato soffocante in cui l'eroismo dei padri durante la seconda guerra mondiale ha bloccato la loro vita ecco l'ultima cosa di cui vi parlo oggi in questa prima lezione di due sulla Beat Generation è sempre un libro di Jack e Kiro un romanzo che si intitola il dottor Sacks qui è interessante perché si parla sempre di conflitti ma si parla di conflitti che nascono già da bambini e anche qui si tratta di una famiglia super cattolica con la casa piena di icone statue e crocifissi un'educazione molto rigorosa e bigotta sono gli ingredienti della formazione di una serie di allucinazioni ecco fino al punto in cui si può arrivare cioè siamo dentro una famiglia molto analoga rispetto a quella che abbiamo visto prima siamo sempre nel profondo sud degli Stati Uniti una famiglia razzista il loro razzismo viene giudicato come si dice giustificato anche dalla religione cattolica anche se la religione non giustifica in nessun modo il razzismo ma è una mescolanza moralista che si trova in queste zone degli Stati Uniti tra l'altro ricordatevi che gli Stati Uniti hanno subito una guerra civile tra nord e sud e la questione del razzismo cioè della liberazione o meno dei neri era la posta in gioco di questa guerra civile e non è che siccome il sud ha perso la guerra civile allora ha anche cambiato la sua mentalità no l'ha persa ma la mentalità è rimasta ricordatevi anche che John Fitzgerald Kennedy è stato ucciso a Dallas cioè in una città del Texas vale a dire in una regione appunto del sud una regione razzista curiosamente cattolica appunto perché ripeto il cattolicesimo non prevede questa mentalità razzista però c'è questo equivoco in questi territori per cui questo moralismo viene in qualche modo giustificato da un forte senso religioso questo è l'incipit del romanzo si tratta di una mezza pagina una paginetta praticamente però quindi non leggete di più ma è sufficiente per capire di che cosa si tratta perché perché voi vedete che si parla appunto di una famiglia nella quale si c'è questa presenza di statue di icone statue religiosi icone eccetera tutte le persone sono molto cattoliche ci sono dei funerali di qualcuno il cadavere è deposto è in casa perché c'è la veglia da fare quindi starà un paio di giorni in casa con le persone che viaggiano che pregano che sono intorno a questo cadavere che fanno visita a questa famiglia e il protagonista è un ragazzino un ragazzino giovane che parla anche lui francese perché siamo a New Orleans e dice che nella sostanza è stato è stato molto influenzato proprio da questo tipo di educazione molto bigotta qui in questo capoverso Kirwak scrive il dottor Sachs lo vidi la prima volta quando era ancora giovane nella mia prima infanzia cattolica di Centralville morti funerali la maccaba atmosfera la tenebrosa figura nell'angolo quando guardi la barra del morto nel doloroso salotto della casa aperta con un'orribile ghirlanda purpurea sulla porta figure di becchini che emergono da una casa in una notte piovosa trasportando una cassa con dentro il cadavere del vecchio signor Hype la statua di Santa Teresa che volge la testa in un decrepito film cattolico degli anni venti con Santa Teresa che sfreccia per la città in un'automobile con acrobazie sterzate alla W6 Fields a opera del giovane pio eroe mentre la pupa non Santa Teresa in persona ma l'eroina che la simbolizza cioè l'attrice punta dritta alla santità con gli occhi sbarrati di incredulità a casa mia avevamo una statua di Santa Teresa in West Street la vi divolgere la testa verso di me nel buio quindi sta parlando del fatto che lui ha conosciuto il dottor Sachs per la prima volta in una condizione di questo genere cioè nella condizione di una veglia funebre quando la statua di Santa Teresa esattamente come ha visto fare in un film ha volto la statua verso di lui verso questo ragazzino che era a letto di notte nella sua camera con la porta aperta ha volto verso di lui questa statua e allora lui ha conosciuto il dottor Sachs attenzione al dottor Sachs perché vedremo fra poco chi è prima ancora inoltre i terrori delle rappresentazioni sulla passione di Gesù nel sudario e nelle vesti del più triste dei destini l'umanità sulla croce che piange sui ladri e i poveri stava ai piedi del mio letto e lo spingeva in una buia notte di sabato al secondo piano nell'appartamento all'angolo fra la Hildred la Hill Street colmo dell'eternità all'esterno o lui o la Vergine Maria si chinavano col profilo fosforescente che orrore spingendo il mio letto quindi lui vedeva queste statue aveva proprio un'allucinazione vedeva statue così che spingevano il suo stesso letto tutte queste allucinazioni e poi dice che gridai chi ha chiuso la porta chi ha fermé ma porte e quelli risposero nessuno e io capì di essere perseguitato dagli spiriti ma non dissi nulla di lì a poco sognavo l'orribile sogno del soggiorno rosso scricchiolando eccetera eccetera cioè di che cosa sta parlando sta parlando del fatto che in questa famiglia particolarmente pesante da un punto di vista della della morale delle delle imposizioni verso questo ragazzo a un certo punto lui è stato condizionato e cominciava ad avere delle allucinazioni quindi ecco la questione si è creato un personaggio immaginario che ha chiamato il dottor Sacks che nella sua immaginazione lo aiuta e quindi lui questo ragazzino in questo momento vede che la porta della sua camera da letto si chiude si chiude per impedire che la statua di Santa Teresa fantasmi eccetera eccetera lo potessero disturbare chi ha chiuso questa porta è stato il dottor Sacks cioè è questo personaggio immaginario al quale lui comincerà ad appoggiarsi contro tutte queste fantasie e ossessioni che vengono trasmesse da questa educazione particolarmente pesante ed ecco qua questo era quello che vi volevo dire nella sostanza di Jack Quirua che la prossima volta parliamo invece di Lorenz Ferlinghetti quindi direi che possiamo vederci vis-à-vis quindi tolgo la connessione e andiamo a la 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 Grazie a tutti